allora visto che il video che avevo fatto in precedenza non si è visto come si fanno i rametti questa è la collana che imita il corallo questa è già con l'applicazione degli 8 fix come vedete qui però comunque per realizzare questi fili vi faccio vedere come si fa perché nel video precedente appunto si è visto fino a un certo punto poi avete se la telecamera si è concentrata sulle mie mani non avete visto come lavorare l'uncinetto il filo che io utilizzate questo poi ve lo metterò sul sotto nell'info box è questo uncinetto potete usarlo da 2 o da 2,5 allora cominciate col montare vediamo se la luce è più che ecco è più vicino cominciamo col fare 10 catenelle poi bisogna fare la biforcazione c'è un ramo un rametto quindi fate quello che volete quindi io non so posso fare 4 catenelle per esempio di rametto più una che mi servirà per girare quindi 5 torno indietro e faccio una maglia bassa in ciascuna maglia che ho caricato quindi in tutto saranno quattro maglie basse e questo chiaramente sarà uno dei rametti laterali io l'ho fatto di quattro maglie e voi lo potete fare di 5 di 3 di 8 di quanto ne volete l'importante cominciate con 10 catenelle sempre ok qui abbiamo fatto quindi il primo rametto adesso andiamo avanti facciamo io vado a caso e metto circa 6 catenelle adesso bisogna fare la biforcazione quindi facciamo un ramo da 5 1 2 3 4 e 5 più 6 per girare quindi 1 ritorno indietro 1 2 2 3 4 e 5 e ho fatto il rametto adesso devo fare il rametto destro adesso devo fare il sinistro che vi consiglio di fare non uguale quindi questo lo farò per esempio di 8 per esempio 1 2 3 4 5 6 7 8 per girare torno indietro e arrivo fino al rametto che ho fatto precedentemente cioè scendo giù faccio tutte le maglie basse fino ad arrivare al ramo che ho fatto prima spero che adesso si veda chiaramente come sto lavorando perché qualcuno mi ha detto che non si vedeva la lavorazione quindi io sto cercando di farla vedere il più possibile chiara chiara arrivo quindi all'ultima maglia e mi trovo con il rametto fatto in precedenza rametto che ho fatto prima entro nel rametto di precedenza e faccio una maglia bassa poi giro il lavoro e faccio una maglia bassa cioè una catenella scusate in questa maniera mi ritrovo il fi il ramo di destra il ramo di sinistra con la biforcazione e rifaccio 1 2 3 4 5 6 catenelle per esempio poi faccio un ramo da 3 quindi 1 2 3 e 4 per girare e sarà il rametto laterale piccolino perché in questo caso lo voglio fare più piccolo perché il corallo non è mai uguale quindi chiaramente io in questo caso ho voluto fare un rametto piccolo poi faccio ancora 5 catenelle per esempio e posso fare ancora un ramo laterale per cui questo lo possiamo fare di 5 1 2 3 4 5 6 per girare torno indietro e faccio le maglie basse 1 1 2 3 4 e 5 e ho ottenuto il mio rametto laterale sempre questo più piccolo questo più grande a questo punto faccio 4 catenelle io vado così a caso e non ho una misura stabilita e faccio un'altra biforcazione come ho fatto prima quindi prendo un ramo da 1 2 3 4 5 quindi da 4 catenelle 1 2 3 4 catenelle questo è un rametto piccolino dall'altra parte ne faccio 1 da 6 1 2 3 4 5 6 torno indietro 1 1 2 3 4 5 a questo punto arrivo nell'ultima maglia entro e faccio un rametto un'altra maglia bassa poi vado nel ramo vicino quello che ho fatto prima qui faccio una maglia bassa faccio una maglia bassa volto il lavoro e faccio una catenella e ricomincio 1 2 3 4 5 e 6 vedete come sta bene sta avvenendo il rametto sta avvenendo esattamente come questi soltanto che questi sono lunghi molto lunghi e questo è ancora corto bisogna continuare a fare lametti laterali biforcazioni e rametti biforcazioni e poi finire sempre con 10 catenelle in maniera che poi quando andiamo a chiudere ci troviamo da una parte dagli altra con la stessa quantità di catenelle per pareggiare ovviamente la chiusura si tratta di andare avanti e fare tutti i rametti così come vedete io li ho fatti molto diversi uno dall'altro non ho fatto tutti i rametti uguali mi sono divertita a farli ognuno diverso dall'altro come vedete questi per esempio sono lunghi poi ne ho fatto anche di più corti a seconda delle mie di come mi girava insomma e quindi questo è il rametto base che dovete fare quindi questo sospenso di averlo fatto vedere chiaramente come si fa 10 catenelle poi cominciate a fare alziamo un po la telecamera così vedete 10 catenelle qua poi fate il rame laterale cioè fate 4 catenelle 5 catenelle 6 catenelle quante volete e tornate indietro facendo una maglia bassa considerate che se ne volete fare di 5 maglie una ne dovete fare in più per girare poi arrivati qui fate di nuovo delle catenelle tante quante ne volete e poi fate la biforcazione cioè fate un ramo a sinistra e tornate indietro e poi un ramo a destra tornate indietro infilate il filo nel ramo che avevate fatto in precedenza e voltate il lavoro facendo una catenella poi andate avanti io per esempio qui ho fatto due laterali poi ho fatto un'altra biforcazione si va avanti così finché non si finisce il ramo con 10 catenelle iniziali e 10 catenelle finali dovete considerare la lunghezza circa vi dico anche quanto dovete farlo lungo se volete fare una una collana un girocollo lungo quanto potete fare il filo adesso lo misuro dunque avevo un metro ecco adesso vi dico esattamente di quanti di quanti centimetri dovete fare la lunghezza considerando partendo diciamo dalla dalle 10 catenelle quindi dalle 10 catenelle fino in fondo sono 59 centimetri circa dovete quindi fare ogni rametto di 59 circa centimetri quindi da una parte all'altra comprese le 10 catenelle deve essere di 59 circa centimetri quando l'avete fatto poi andate poi ad applicare l'hotfix il tutorial sull'hotfix non so se l'ho fatto o se non l'ho fatto lo farò ma comunque l'importante è che intanto cominciate a creare i fili in questo caso la collana è fatta da tre quattro cinque fili ma può essere fatta anche di sei a seconda di come volete farla diciamo importante considerate che più rametti di lunghezze diverse fate più la collana è vaporosa quindi questo è il rametto questo è il filo e questo è l'uncinetto ora vi metto nell'info box le indicazioni riguardo alla ai punti fatti e al tipo di cotone che ho comprato spero di essere stata chiara questa volta e alla prossima